Ma tu sei qui per vincere o per imparare? È proprio la distinzione, sei qui per vincere o per imparare? Se sei per vincere appartieni a questo mondo in cui solo alcuni vincono e quasi tutti gli altri perdono. Se sei qui per imparare sei già nel nascente perché la vita è apprendimento, continua. Noi siamo vivi solo se continuiamo ad apprendere. Appena diventiamo ripetitivi meccanici sapete dove finiamo? Nel pensiero ossessivo che non è un pensiero è una maschera. E qual è la radice del pensiero ossessivo? Scavate, provate a scavare dietro un ossessivo i suoi rituali. La paura. Certo, ma prima della paura si presenta un'altra cosa. Il controllo. Togliete il controllo e cosa troverete? Troverete rabbia, odio, rancore, furia. Terribile. Perché prova andare da un'afraga a togliergli la sua tavoletta. Mi spaventa. Se arrabbia vuole uccidermi, ma come? Mi togli la mia tavola. Peccato che se finché ti tieni alla tavola non puoi salire sulla nave che è venuta a salvarti. L'ossessività è una configurazione corpo, mente, cuore e cervello. Cioè quando il pensiero va in tilt, fa così. La struttura ossessiva è una struttura conflittuale per natura. cerca di risolvere il conflitto immettendo altro controllo. Non ce la può fare perché il suo problema è il controllo. Il pensiero ossessivo fa così. Questo va bene, questo va bene, non mi interessa. Questo va bene, non mi interessa, questo va bene, non mi interessa, non mi interessa. Cazzo qua. Oh! È questo che conta. E tutto il resto? Niente. L'altro deve essere così. Questo, guarda un po' cosa c'è qua. Ma chi l'ha lasciato? E qui c'è gente non educata, no? Questo è il pensiero ossessivo. Può succedere anche che il pensiero ossessivo deve lavorare parecchio per trovare qualcosa. Ma la trova, eh? Se non la trova nel presente, ci mette un cavolo. Dice, va bene, il presente mi delude. Aspetta, aspetta, va bene. Io ho guardato tutto, ho guardato il tuo scannerizzato. Ogni cellula ti conosco. Cazzo, non c'è niente. Non ti preoccupare, aspetta. Tu, vado nella galleria dei ricordi. Cazzo, quella volta ha detto quella parola. Merda, fatta. Te, brutta stronza, hai detto quella cosa. Sì, ma ero malata, ero... Che cazzo c'entra che eri malata? Ma a te non c'entra. Tu hai detto quella parola. Basta. E ti porto in tribunale. Ti ci tengo dentro. Invece, il paranoide è ancora più interessante, perché il paranoide non si limita a guardare i difetti, ma cerca i sospetti. Cioè, dice, certo, sembra tutto bene. Ma è proprio quello. Lui sorride, è aperto. E' proprio lì che c'è l'inganno, sai. E' meglio che mi fai, sai. Vuol dire che mi stai pigliando per il culo. Perché vuol dire che mi vedi in qualcosa, non me lo vuoi dire, e mi guardi così in modo che io non mi accorgo di quanto tu mi disprezzi, cazzo. Capite? Allora, questi due tipi di pensieri sono diffusissimi, sono i più diffusi.